Quarantena obbligatoria per tutti i braccianti stagionali in arrivo da Romania e Bulgaria. L'ordinanza del ministro Speranza è stata recepita a pieno e non poteva essere diversamente dalla regione e di conseguenza da ATS Bavia nel protocollo che nelle prossime ore sarà diffuso alle organizzazioni agricole e alle aziende in procinto di iniziare la vendemmia. Il protocollo ovviamente vale per tutti i lavoratori stagionali di qualunque settore ma il fronte più caldo è oggi quello vitivinicolo. L'avvio della raccolta dell'uva è infatti previsto attorno al 10 di agosto. L'isolamento di 14 giorni imposto dallo Stato alle persone provenienti dai due paesi dell'est Europa a causa dell'aumento dei casi di coronavirus pone una questione seria per le aziende dato che la Romania è anche il maggior fornitore di mano d'opera. Nel 2019 i vendemmiatori romeni erano più di 400, oltre il 30% del totale degli stagionali arrivati in Oltrepò che si è attestato a 1164 unità. Una parziale via d'uscita che consentirebbe di accorciare i tempi di quarantena potrebbe consistere nel sottoporre ogni lavoratore al tampone appena giunto in zona. Di queste ipotesi discuteranno Regione e Ministero nei prossimi giorni. ATS Pavia intanto, oltre a confermare l'offerta di tamponi gratuiti per tutti i lavoratori stagionali, ha confermato anche l'apertura di un ambulatorio nella zona di casteggio a cui si potranno rivolgere i braccianti per esigenze mediche non urgenti. Il protocollo di sicurezza che verrà diffuso da ATS Pavia conterà una serie di azioni che i datori di lavoro dovranno mettere in atto ogni giorno prima dell'inizio dell'attività, fra cui la misurazione della temperatura corporea, la presenza di dispositivi di protezione individuale come le mascherine e del gel igienizzante, oltre alla compilazione di un registro delle presenze in azienda. La stragrande maggioranza di coloro che dovranno arrivare per la vendemmia dalla Romania e dalla Bulgaria, ma soprattutto dalla Romania, avrebbero potuto causare seri problemi, anche oltre ad essere molto utili ai nostri viticoltori, però di fronte a questo momento c'è questo aumento di casi enorme a livello rumeno, un protocollo che era già stato studiato dalla dottoressa Sassi e valutato immediatamente dall'assessore Rolfi, dall'assessore Gallera. Si spera che trovando delle soluzioni che un tampone, eventualmente un secondo tampone dopo una settimana, possa accelerare la possibilità di porli subito al lavoro, perché l'esigenza del clima e della vendemmia è un'esigenza immediata.